Il palazzetto più caldo in cui mi ha giocato in Serie A è il palazzetto di Bologna. Penso sia Brindisi da dopo il Covid però. Varese. Bologna. Spioppari. Uno su tutti è probabilmente Varese, però anche Bologna è un posto difficile in cui giocare. Il palazzetto più caldo in cui ho giocato è quello di Bologna, sicuramente Paladozza. Mi tocca dire per forza il Palaverde perché l'anno scorso ho vissuto delle emozioni incredibili e è stato veramente pazzesco.